Ciao e bentornati sul canale! Allora, oddio, sono partito... Bentornati sul canale! Ma hai fatto la foto prima? Sì. Perfetto. Allora, abbiamo già visto un po' di ovetti Kinder nuovi, della nuova stagione, 2022-2023. Principessi e Play Doon e Nakunus. E qui invece abbiamo Hot Wheels. Sinceramente io preferivo un altro delle principessi perché... E lo so, lo prenderemo. Comunque, Hot Wheels, una su tre, oppure sorpresi ne varie. Ma scusami, non potremmo fare tre su tre delle principesse delle Hot Wheels e dei Nakunus uno su tre? Mi dispiace, Nakunus hanno scelto di fare questo. Quindi andiamo ad aprire la scatola. Ma, 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 io devo aggiungere che non so come si fa, ma ve lo dico chiaramente... Volevo prendere un tavoliolo? Sì, brava. C'è, intanto io racconto questa cosa, c'è una campagna che dice che raccogliendo tre prodotti Kinder, andando sul sito, poi sarò più chiaro nei prossimi giorni, si può vincere un Monopoly Kinder, mi pare 60 Monopoly Kinder al giorno, una cosa del genere. Quindi conservate le confezioni, le scatole, perché sulla scatola, poi andrò sul sito a vedere, vi spiegherò meglio la prossima volta, come si fa a partecipare all'estrazione di questi famosi Monopoly Kinder. Mentre Sara è andata via, io... È tornata... Bu, bu, cosa? T'ho sentito arrivare. Non è vero, è arrivata da un sacco di tempo. Allora... Mmm... Un peccettino di cioccolato... Anche c'è la cena si avvicina. Non si mangia né dolci prima di cena. E non si nomina Bruno per questo, però. Sì, ma Bruno è diverso, cioè, poverino. Allora, io giallo... E' arancione e tu sempre giallo. Perfetto, quindi? La Hot Wheels l'apro io. E a te lascio gli altri due. Va bene? Sì. Pronti? Sembra giusto. Via. Apriamo la Hot Wheels. Ah, è molto semplice da montare. Fatto. E' sta montata. Bene. Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, ho visto il foglietto e sembrava una roba bellissima. Stavo per dire questa cosa. Che carino! Non è poi così carino. Da vivo. Allora, vi faccio vedere meglio. In pratica cosa succede? A parte avere un po' di adesivi da attaccare, ma non lo farò adesso. Ma dovrebbe contenere degli adesivi? Premete il motore. Ecco, vi faccio vedere più da vicino. Si muove un po' a saltafuori perché è molleggiata la parte superiore della macchina. Che sembra un po' da Formula 1, un po' qualcosa di semi-barra. Ma non ho messo gli adesivi. In cosa? Adesso lo monto e vi faccio vedere. No? Dovrebbe essere un porto adesivi. Ma non ci sono gli adesivi. Come non ci sono gli adesivi? Hai guardato dentro bene? Sì, ho guardato. E neanche nelle istruzioni niente? Niente. Va bene. Montato? Va bene, è una scatola. Carino, eccolo qua. È praticamente una scatolina con sopra il protettore della scatola. Lui che protegge la scatola. Sembra carino. Io sono riuscito a staccarlo e non riesco a riattaccarlo. Come hai fatto? Non riesco. La forza del raffreddore, forza. La forza del raffreddore. Eccolo qua. Sono riuscito a riattaccarlo. Quindi questo è uno. No, ma che bello. Si può trovare un razzo. Si può trovare un razzo? Tu cosa hai trovato? Cioè, quello lì dietro. Gira questo. Faccio vedere intanto. Questo è quello che c'è e questo è quello che abbiamo trovato. Ma c'è molto da montare perché qua non si vede molto. Volevo vedere se... Ok. Volevo cercare di capire come si apre questa scatola. Tu sei riuscito ad aprirla? La scatoletta l'hai aperta? Eh, no. Cioè, era già aperta. Ah, l'hai chiusa quindi. Mi ha giusto per far vedere che è all'interno è così. E appunto fa vedere che può contenere piccoli adesivi o altre cose. Quindi adesso devo riattaccare il piede di questo animale. Ecco. Allora, è così. Aspetta, facciamo vedere com'è fatto il razzo prima di tutto. In realtà ci dovrebbero essere dei raggi dietro, ovvero questa parte arancione qua. Però... Faccio vedere. No, lo so come funziona. Così. E no. E no, e no, e no. E no, e no. E no, come allora? Allora, devi fare così. Fallo vedere se riesci. Perfetto. Dovrei peculare via. Aspetta che riprovo io, vediamo se per caso... Sì, non capisco. Fammi vedere le istruzioni. Allora... Anche perché c'è il bersaglio. Ah no, di qua, di lato. Aspetta, eh. Qui si mette il bersaglio. E bisogna premere. Aspetta, si infila così. E poi... Più o meno così. Ecco, diciamo che... Wow. Non incastrandosi... Lascialo. Visto? Wow. Sì. Mamma mia. Giochiamo a scommetti che io riesco a lanciarlo più lontano. Però la forma è carina, insomma. Quindi, un'astronave, un'automobilina della Hot Wheels. Posso dire che tra Datoons, Principesse e Hot Wheels è la peggiore. Cioè, non... È equiparata ad una sorpresina normale. Non è diversa dalle altre. I natoons sono diversi dalle sorpresine normali. Le principesse sono diverse dalle sorpresine normali. Questa Hot Wheels mi sembra una sorpresina normale. Però, rimane sempre piacevole trovarle. Buono cioccolato. Quale preferisci? Io l'ho mangiato perché non mi voglio rovinare la cena. Esatto. Stasera non so che cosa abbiamo. Forse pizzocchi, non lo so. Pizza, non lo so. Vediamo. Pizza, pizzocchi cominciano sempre uguali. Quindi va bene lo stesso. E vi ricordo di iscrivervi al canale. Tutto questo, sentiamo. È più carino. A me piace la forma di questo. Però poi il fatto che non rimanga attaccato e si sganci così... Ma... Mi convince proprio. Comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, di vedere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre... Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!